un benvenuto a tutti da meteo groane cielo piuttosto buono quello di oggi ma con lo sviluppo di nuvole cumuliforme e anche un po più fresco soprattutto in serata proprio per via dei temporali che hanno sfiorato le nostre zone andiamo a guardare la cartina con i dati così ci rendiamo conto 18,5 la minima di bollate 19,7 quella di cesate 15,6 quella di ciliano raghetto le massime 29,9 bollate 29,4 cesate 28,9 ciliano raghetto temperature che sono un po diminuite sia minime che massime ecco i millimetri vedete siamo proprio stati sfiorati perché nella zona di cinisello nella zona di milano est e poi tutta la zona della bassa lecchese della bergamasca ci sono stati temporali anche con abbondanti con abbondanti precipitazioni l'immagine del satellite infatti ce lo fa vedere proprio l'incursione fresca che sta entrando nel mediterraneo ha generato su alpi e prealpi sia a livello di centro italia vedete qui la zona delle marche sia a livello di pedemontana bergamasca e lecchese questo sviluppo di nuvole cumuliforme con questi temporali infatti le temperature che vediamo alla sera del 23 di agosto vedete come si è rinfrescata la pianura tutta la padana un po' meno il centro sud che deve ancora aspettare l'arrivo di quest'aria fresca e soprattutto le api fresche dal radar vediamo che le precipitazioni ormai si sono concentrate le stanno lasciando anche le marche e stanno passando verso i balcani andiamo a vedere le nostre immagini di vidi il modello di riferimento che fa vedere lo spostamento delle masse d'aria ecco vedete l'incursione che si fa più presente anche nella giornata di domani e continuerà per i prossimi giorni della settimana almeno per un po di giorni questa incursione fredda ci terrà compagnia e le temperature diminuiranno soprattutto le minime ma anche le massime con occasione di qualche precipitazione andiamo a vedere la carta solo per domani vedete la pressione diminuisce le correnti fresche da nord da nord est entrano anche sulla pianura padana le temperature diminuiscono un'alta pressione se ne sale ben più in alto ecco le previsioni domani martedì 24 agosto un cielo abbastanza buono al mattino qualche possibile piovasco o rovescio alla sera più 16 la minima più 28 la massima mercoledì un cielo parzialmente nuvoloso 18 a 27 le temperature e giovedì 26 parzialmente nuvoloso 16 e 29 le temperature bene vi ringrazio dell'ascolto vi do l'appuntamento al bollettino di domani vi auguro un sereno martedì 24 agosto da meteo corale un arrivederci a tutti grazie grazie